Buongiorno a tutti, sono Francesco Frati, rettore dell'Università di Siena e sono qui per introdurvi e presentarvi un nuovo ciclo di seminari che abbiamo organizzato qui all'Università di Siena in questo periodo di forzata rallentamento delle nostre attività a causa dell'epidemia da coronavirus. Come molti di voi sanno l'Università negli ultimi mesi aveva avviato un ciclo di conferenze denominato Studium, una rassegna di eventi nei quali i nostri ricercatori, i nostri docenti raccontavano in maniera divulgativa al pubblico rappresentato non soltanto dai nostri studenti ma da tutti i cittadini della nostra città, raccontavano e parlavano di temi quotidiani della loro ricerca o di temi di ricerca di interesse comune. Nell'impossibilità di continuare a tenere Studium come sempre ospitando tutti i cittadini interessati nella romagna storica del rettorato abbiamo deciso di trasferire la rassegna sul web utilizzando i nostri canali social con particolare riferimento al canale Instagram Mosiana Campus e costruendo un programma di interventi che spero vi terrà informati nei prossimi giorni. Cominceremo questo pomeriggio alle ore 17 di martedì 17 con il professor Bettini che parlerà di virus e contagio nel mondo antico. Questo ciclo è organizzato dalla nostra divisione Osena Campus che si occupa di cittadinanza studentesca assieme alla radio degli studenti universitari Uredio e al collettivo ciclo maggio che collaborano con noi per eventi di divulgazione scientifica e che voglio ringraziare per la disponibilità e l'entusiasmo con cui come noi si sono buttati in questa nuova avventura. Io spero che questo programma sia di vostro gradimento, spero che sia gradito a tutti e mi auguro anche di ricevere qualche commento che possa servire a migliorarci continuamente. Grazie a tutti e buona visione.